Beneficenza ai giocatori del calcio Catania 2006 che hanno portato la squadra alla promozione affronteranno sabato alle 17 al Massimino la squadra di oggi di Serie A per un pomeriggio di beneficenza. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Onlus Ibiscus, la Lega per il trattamento dei tumori infantili. Partecipare a questa gara vuol dire anche regalare un sorriso a questi bambini. Ce ne parla Marco Biagianti che è il centrocampista del Catania e che è anche promotore di questa iniziativa. E' Marco Biagianti la bandiera di una iniziativa di cuori rossazzurri, quelli del passato e quelli del presente che saranno in campo sabato 25 alle 17 per aiutare l'Ibiscus. Un gol per un sorriso. Sì, ci sarà questo evento come hai detto te sabato alle ore 17, sarà una partita di beneficenza per questa associazione, anche un ritrovo per tanti tifosi che vengano a vedere una partita insomma bella. Chi ci sarà in campo? Siamo tanti insomma, sono riuscito chiamando uno per uno, i ragazzi hanno risposto con piacere sapendo anche che è una partita di beneficenza e anche per loro è un onore tornare al Massimino. Saranno Baiocco, Polito, Caserta, Terlizi, saranno tanti insomma. Infatti al di là della beneficenza sarà un ritrovo importante anche per questi calciatori. Tra il pubblico sicuramente tanti di questi bimbi, questi pazienti di oncologia, appunto di oncologia pediatrica. Sicuramente, sto cercando anche di organizzare qualcosa con loro perché è giusto e sarà un divertimento anche questa partita e farà piacere assolutamente anche a loro essere in campo. Biglietti disponibili ai botteghini ma già da adesso online? Sì, online tramite la prevendita del circuito box office, ci saranno i botteghini, insomma i biglietti si possono acquistare magari anche chi non riesce a venire per lavoro o altro sa che può comprare un biglietto e rendere felici questi piccoli.